ciao dal bar sport dell'italia ciao da casa uivi l'unico corso al mondo l'unico corso di italiano di livello avanzante dai forza apriamo il bar se tu fossi davvero in un bar che cosa ordineresti e sì al bar si ordina anche senza il dito puntato però al bar si ordina e il cameriere serve mamma mia e il servitore no però serve e c'è un c'è un gergo un po dittatoriale al bar poco democratico allora che cosa ordineresti se tu fossi seduto al tavolino di un bar io un caffè di solito prendo un caffè chiedo un caffè ordino un caffè prima ma tanti anni fa no fino a quattro cinque anni fa ordinavo un cappuccino però adesso non più un caffè basta e avanza loron ciao ciao anche a sasha e poi parleremo della croazia della francia ti stupirò ti stupirò oggi sono preparato perché i mondiali e dai con questo plurale ma vaffan bagno il mondiale ma tutti dicono i mondiali in italia il mondiale sta entrando nel vivo anzi io direi è entrato nel perché è finita la fase a gironi dei gironi sono finite le partite della fase dei gironi adesso iniziano o meglio domani inizieranno gli ottavi di finale che sono otto e quindi è giustificato il plurale gli ottavi ciascuna squadra qualificata ciascuna singolare squadra oppure tutte le squadre qualificate affronteranno l apostrofo ottavo di finale una partita sola una partita secca dopo gli otto ottavi di finale ci saranno i quattro quarti di finale dopo i quattro quarti di finale ci saranno le due semifinali e poi le due finali andata e ritorno no c'è la finalissima come qualcuno la chiama la finale per il primo e secondo posto e poi c'è la finale più triste di tutte la finale tra le due perdenti delle semifinali la finale del terzo quarto posto io la toglierei la cancellerei ma esiste ancora penso proprio di sì le due squadre perdenti della semifinale delle due semifinali giocano la finalina c'è la finalissima e la finalina così si chiamano informalmente allora ciao anche a angelica dalla germania daniela da venezia rita ancora in germania mamma mia la germania che cosa si dice in germania che cosa si è detto oggi in germania ciao anche ad armani dagli stati uniti qualificatissimi ma adesso vediamo tutte le partite è il bar sport e allora facciamo questo bar sport e qua entra nel vivo il bar sport e entriamo nel vivo noi con i nostri commenti dobbiamo entrare nel vivo della discussione ciao eliana e ciao cuanco yolanda ci saluta dall'italia ciao yolanda ciao norberto dell'argentina un caffè latte bene molto bene daniela vuole un caffè latte un caffè latte per daniela venezia ordinerei un vino di porto molto bene poi ciao patricia gli altri alcolici si servono sì sì nel bar sport siamo laici tranquillamente è possibile consumare tutto quello che si vuole magari sotto banco sotto banco le cose che non possono vendere sotto banco c'è tutto ciao anche a barbara da domani vincere o andare via gli ottavi i quarti le semifinali come mai perché sono otto quattro e due quindi parliamo degli ottavi perché sono tanti gli ottavi sono otto parliamo della finale quella vera perché è una anche se poi le finali sono due ma si dice la finale perché una ingrid ingrid belga e tifosa del belgio ciao a tutti ciao roberto e a tutti finalmente sono completamente sola questa sera voglio ma cosa o ma sto cavolo di belgio ai giocatori più forti d'europa e del mondo però 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 e ti ho pensato ieri ho preparato un po di parole allora ti voglio parlare di quattro parole tabellone in un campionato in un torneo mi vengono in mente i tabelloni dei tornei di tennis anche per i mondiali c'è il tabellone il tabellone riassume graficamente la situazione del torneo adesso nel tabellone ci sono 16 squadre otto da una parte otto dall'altra ci sono disposti su questo tabellone le otto vincitrici del girone in abbinamento con una delle otto seconde classificate nel girone o nel gruppo non potranno giocare contro una dell'altra parte fino alla finale esatto perché qui volevo arrivare molto bene allora rileggo le squadre di una parte del tabellone non potranno giocare contro una dell'altra parte fino alla finale e qui volevo arrivare perché c'è questo tabellone il tabellone è già prestabilito cioè da adesso in poi non ci sarà nessun come si chiama quell'azione in cui che serve per tirare fuori per estrarre sì quell'azione con la quale si estrae un bigliettino da un contenitore pieno di bigliettini per decidere gli abbinamenti non ci sarà nessun non ci sarà la lotteria no la lotteria il biglietto bravo la lotteria la lotteria mi fa venire in mente il monte premi la lotteria e quindi c'è il primo premio di 6 milioni di dollari allora c'è non è la lotteria è una lotteria si dice che queste partite sono un po una lotteria perché potrebbe succedere di tutto ma non è una lotteria che cos'è il sorteggio eccolo qua il sorteggio ieri centinaia di persone hanno festeggiato ad aljetiras la qualificazione del marocco quindi la partita fra la spagna e il marocco di martedì sarà un derby da queste parti speriamo bene per il dopo partita perché ho letto che c'è stata una catena umana di tifosi marocchini ad anversa o in belgio comunque per evitare il ripetersi qua uso il verbo come un sostantivo per evitare il ripetersi delle scene ignobili vissute proprio ad anversa dopo belgio marocco con una situazione di guerriglia urbana per i tifosi marocchini che hanno sfasciato vetrine macchine nella partita successiva marocco spagna c'è stata una catena una catena umana un servito un cordone di sicurezza organizzato proprio dai dai tifosi marocchini per bene che sono la stragrande maggioranza ovviamente però questo è successo quindi non ci sarà nessun sorteggio non ci sarà nessun sorteggio il tabello un po' come per i tornei di tennis non non diciamo niente di strano e niente di nuovo si conoscono già i possibili abbinamenti dei quarti di finale della semifinale della finale leggiamo le otto partite per me queste otto partite sono facce di amiche e di amici per esempio olanda stati uniti ci sono tantissime facce qua minimo 12 15 facce che conosco olanda stati uniti bellissima è questa partita argentina australia ciò vuol dire che nel quarto di finale della parte alta giocheranno la vincente di olanda stati uniti contro la vincente di argentina australia basta è una partita tra queste quattro squadre allora olanda stati uniti chi vincerà olanda stati uniti è un grandissimo punto di domanda l'olanda come il belgio adesso entriamo proprio nel bar sport l'olanda come il belgio è bella ma perdente non riesce mai a mettere il suo sigillo su un mondiale con una vittoria fa un bel calcio un bel gioco dai tempi di cruif come si pronuncia cruif non lo so sempre bella bravi giocatori però olanda stati uniti potrebbe essere una grande sorpresa non voglio gufare non voglio portare male a nessuno argentina australia beh beh il risultato è già scritto come si diceva per argentina arabia saudita cari amici argentini toccate ferro fate gli scongiuri andiamo avanti giappone croazia e mi vengono in mente caterina in mente sasha hajime abbiamo hajime non lo sento da tanto qua in diretta ma abbiamo anche un amico del giappone qua in in uivi che vincerà beh non lo so la croazia sulla carta è più forte sulla carta la carta vuol dire in teoria sulla carta se noi scriviamo facciamo le tabelle i grafici le percentuali la croazia è un più forte i giocatori della croazia giocano molti giocatori della croazia giocano in squadre di club come si dice famosissimi sono fortissimi però brasile corea del sud questa è la parte di sinistra del tabellone o la parte alta dipende come si guarda il tabellone la parte di sinistra ciò vuol dire che una possibile semifinale potrebbe essere argentina brasile argentina e brasile potrebbero incontrarsi in una drammatica semifinale quindi il tuo pronostico è olanda argentina il il pronostico più classico e giappone brasile e giappone braula la sascia guarda che il caro amico quanko ha detto che la tua squadra perde non lo so lui bene bene e tu e sascia adesso arrabbiati arrabbiata bar sport bar sport di qualcosa contro la spagna non è sì argentina e brasile sarebbe la terza guerra mondiale sarebbe una sfida drammatica però tutti sperano che arrivino alla semifinale dall'altra parte sembra un campionato europeo su otto squadre cinque sono europee cinque o sei penso cinque francia polonia mamma mia inghilterra senegal marocco spagna sei sei marocco spagna portogallo svizzera è più difficile secondo me dall'altra parte c'è argentina e brasile quindi un possibile quarto di finale potrebbe essere francia inghilterra un altro possibile quarto di finale potrebbe essere spagna portogallo o spagna svizzera per carità è una sfida molto equilibrata allora abbiamo letto il tabellone degli ottavi di finale e il tabellone del mondiale abbiamo letto gli abbinamenti gli abbinamenti fino a questa sera il tabellone non era completo gli abbinamenti non erano ancora tutti completi ne mancavano due né due ne mancavano due la strada è tracciata la strada per la finale è tracciata adesso vinca il migliore che cosa devo dire o vinca la squadra migliore non vendete e vi faccio il migliore che cosa invece è tracciata la squadra migliore che cosa non è